Quali sono gli elementi imprescindibili di una LLC per fare business? Quali sono le caratteristiche che devi portare a casa, che devi conoscere di una LLC se vuoi veramente utilizzarla per il tuo business digital? Quali sono? Te lo dico dopo la sigla. Ciao, sono Luca Taglialatela e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Se ancora non l'hai fatto ti invito a cliccare subscribe per rimanere aggiornato con le notizie del canale e a lasciarmi un like se ti sarà gradito il contenuto di questo video. Quali sono gli elementi che devi conoscere per riuscire ad utilizzare una LLC con attenzione e non farti male? Allora, la prima cosa da sapere è che per essere valida una LLC devi avere un EIN number. Questo è il business registration number, è un po' quello che ti rilasciano le camere di commercio se incorpori una società per esempio all'interno dell'Unione Europea. Lo rilascia la IRS e le tempistiche possono variare. Dipende dai singolo Stato in cui andiamo a incorporare la LLC. C'è una tempistica per il Wyoming, una per il Delaware, una per la Florida, eccetera, eccetera. Diciamo che si va dai 3-4 giorni lavorativi con un po' di fortuna e di expertise fino addirittura anche ai 20 giorni lavorativi. Dipende dal periodo storico in cui troviamo l'IRS, che è l'Agenzia delle Entrate Americana, il fisco americano che è quella che è preposta al rilascio del numero. Potremmo trovarsi in situazioni di alto intasamento e capita di dover aspettare anche parecchio tempo. Il secondo elemento che devi conoscere invece è l'IT number. L'IT number è un altro codice alfanumerico, ma ti direi in realtà numerico perché sono 9 numeri, non ci sono lettere. Questo è il codice di previdenza sociale per i non residenti, per le cosiddette non US person. 9 volte su 10 non ha implicazioni fiscali, quindi il fatto che tu ne abbia uno non vuol dire che debba pagare la previdenza sociale in America se non sei fiscalmente residente all'interno degli Stati Uniti, ma è un numero fondamentale che ti serve a due cose su tutto. In primis per collegare alcuni wallet di pagamento come per esempio PayPal. In assenza di un IT number dimentica di poter avere un profilo PayPal collegato business, collegato alla tua società. E in secondis è importante sapere che l'IT comincia a creare un cosiddetto credit score all'interno degli Stati Uniti. Il credit score è fondamentalmente come ti vede il governo americano, come ti vede l'Agenzia delle Entrate. Quindi da più tempo highlighting, da più tempo il tuo business pulito, ufficialmente riconosciuto all'interno degli Stati Uniti, più alto il tuo credit score. Questa cosa ti dà un'agevolazione sia in termini di minori accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, sia in termini di migliori rapporti con le banche, ma soprattutto per chi ha interesse poi domani di rilocarsi o di ottenere un visto all'interno degli Stati Uniti, potrebbe essere un primo ponte per poi entrare in un secondo momento fisico. E anche fiscalmente all'interno degli Stati Uniti con una delle N-Visa che sono a disposizione che sono tantissime e poi magari fino ad ottenere addirittura una green card. Il terzo elemento che voglio regalarti in questo video è legato alla gestione dei conti correnti, ossia non tutte le banche locali sono affidabili. Ce ne sono alcune che sono molto più affidabili di altre, altre sono rimaste coinvolte in alcuni scandali finanziari. È sicuramente possibile ottenere l'apertura di un conto corrente bancario in loco, anche da remoto. È molto più facile chiaramente ottenere l'apertura di un conto corrente online. Io sono Luca Taglielatela, sei sul canale di Tax Planning Internazionale, spero anche oggi di aver portato un contenuto di qualità nelle vostre case, donne. Se ancora non l'hai fatto, lasciami un like, dubbi e approfondimenti, clicca il link in descrizione. Noi ci rivediamo nel prossimo video.